oggi una giornata cruciale per il polismo mondiale non tanto perché adidas alla mezzanotte di oggi ha lanciato le adi zero pro che non sono queste ma quanto per il fatto che racconteremo come al solito il workout del mercoledì allora vediamo un attimino come siamo messi di nuovo 30 secondi di corsa o jumping jack o burpees e poi riposo oppure esercizi di di mobilità articolare è stata una schifezza lo ripeto allora ciao ragazzi buongiorno eccoci arrivati al tanto atteso workout del mercoledì oggi con andrea cercheremo di vedere come allenarci in quarantena mi hanno chiesto quanto tempo ci vuole per svolgere questo workout noi suggeriamo mezz'ora in tutto quindi nemmeno così tanto impegnativo siccome la quarantena continua a essere lunga qualche amico ci ha chiesto se intendiamo preparare qualche video per raccontare come allenarci per le classiche serali estive devo convincere andrea però penso che la cosa non sarà molto difficile anche perché andrea queste gare le vince tutte quindi immagino che un suo consiglio sia comunque gradito a tutti voi lascio la parola ad andrea io nel frattempo vado ad allenarmi ciao e dopo allenamento del mercoledì diviso in quattro parti da 30 secondi la prima parte 30 secondi di salto da corda o di corsa la corsa vedete voi come farla potrebbe essere l'idea dei connetti come vi avevo detto l'altra volta 10 passi di distanza avanti indietro avanti indietro avanti indietro per 30 secondi la tenete anche sostenuta 30 secondi di lavoro in questo caso il lavoro sono skip a ginocchia alte oppure calciata dietro ok quindi quella calciata al sedere sul gluteo dopo di che 30 secondi di corsa ancora oppure jumping jack quindi la stella saltando aprendo le gambe e le braccia oppure i barpees i barpees li trovate tranquillamente su su youtube vanno per la maggior in questo periodo per un allenamento molto aerobico e anche di potenziamento gambe lo stanno facendo praticamente tutti in questo periodo finito i 30 secondi di queste di questi lavori 30 secondi di recupero io direi sfruttate il recupero per fare un po di mobilità articolare per le braccia per le gambe quindi per le braccia magari le circonduzioni delle braccia o per le gambe degli slanci laterali e frontali variate voi l'allenamento può essere fatto così primi 30 secondi corsa o corda abbiamo detto dopo di che fate lo skip dopo di che fate la corsa jumping jack o barpees dopo di che fate mobilità braccia secondo giro e invece che fare gli skip farete la calciata dietro eccetera eccetera quindi alternati 30 secondi di corsa o corda 30 secondi di lavoro quindi una volta farete gli skip una volta farete la calciata dietro 30 secondi ancora di corsa jumping jack o barpees e 30 secondi di esercizi di mobilità articolare per le braccia o per le gambe quindi magari anche lavoro per sbloccare un pochino la lanca oppure degli slanci laterali e frontali max di fare dei copy and call ha detto un po di roba ma te sei il re dei montaggi ciao bentornati sulla panchina un piccolo consiglio per la realizzazione del workout del mercoledì mi raccomando non fate come mia figlia silvia non correte con le crocs rosa altrimenti rischierete che l'allenamento sia comunque molto instabile secondo consiglio andrea se dimenticato di dirlo le serie sono da 10 o da 15 in modo tale che voi possiate correre per 20 oppure 30 minuti ringrazio tutti coloro che hanno commentato nei giorni scorsi nelle prossime settimane farò molti dei video che ci avete richiesto il prossimo video comunque sarà dedicato alla recensione delle sl 20 che come dice mia figlia si differenziano rispetto alle boost 5 soltanto perché hanno le tre bande un po più larghe poi fatemi sapere come è andato il workout il mercoledì se vi è piaciuto mettete like commenti sempre qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale anche perché io non soltanto farò la recensione delle ad0 pro ma vi spiegherò in sintesi il pro e il cons di tutte le scarpe con fibre di carbonio e quali vi suggerisco ciao e alla prossima I don't know what you want I don't know if you feel like I do right now I don't say you're on the run to the other side I don't know if you feel like I do right now